La notizia che lancia, direi anche quasi la bomba che lancia il presidente di Mediapro è quasi surreale e sinceramente se posso permettermi mi dà anche abbastanza fastidio. Di che cosa sto parlando? Della possibilità, parola del presidente di Mediapro, e ragazzi ovviamente voi sapete chi è Mediapro, ne ho parlato in diversi video, quindi se mi seguite lo sapete, di giocare la prossima finale di Champions League in America, precisamente a New York. No, la prossima, non questa, quella dopo, o comunque giù di lì, quindi spostare definitivamente la finale di Champions League in altri continenti, tra cui l'Europa, per portare altri continenti al centro del mondo calcistico. Non sono d'accordo, allora premessa una cosa, quest'anno c'è stata una mezza rivoluzione in Liga, che è un mezzo casino, perché? Perché hanno scelto di spostare una partita del Barcellona a Miami, e quindi a Miami avranno la possibilità di vedere il Barcellona, però i difusi del Barcellona non avranno la possibilità di vedere il Barcellona, a meno che non prendano un aereo e partano per Miami, quindi ovviamente i difusi non hanno voluto, i giudici hanno detto che avrebbero scioperato, però, allora, il discorso è questo, già questo si può capire, se non è una partita proprio importante, perché poi ho letto probabilmente della partita che spostano è Barcellona-Levante, questo posso capirlo, sposti una partita, ma non è che mi dispiace in realtà, cioè nel senso, se ogni campionato prestassi una partita al continente americano, appunto per giocarla lì e per dare importanza al calcio, che poi dà anche importanza al calcio nostrano, perché se mi sposti magari un, ma anche una partita di poco conto, però, che so, un Juve-Bologna, un Roma-Torino, a Miami la gente va a guardarla, perché comunque, ragazzi, il livello del Barcellona-Levante più o meno è quello, eh, la gente va a guardarla e comunque porta il calcio lì, e io su questo non ho assolutamente niente da ridire, ci sta una gara, ci sta, me lo di un po', perché magari ho l'abbonamento, oppure volevo fare la trasferta nel caso fosse Levante-Barcellona, però posso accettarlo, è un, un, diciamo, un miglioramento nel calcio, che comunque, uno, inserisce gli Stati Uniti, appunto, nel calcio che conta, e due, dà possibilità al brand, alla squadra di farsi conoscere al di fuori dei propri confini, quindi ci sta. Ma ragazzi, ma la finale di Champions League, ma perché? Cioè, nel senso, la Champions League è una competizione europea, totalmente europea, come lo è magari anche, ovviamente, il campionato spagnolo, il campionato italiano, la differenza, ragazzi, che essendo la competizione più importante europea, la più importante in Europa, la finale tu non me la puoi fare in America, diamo importanza alle tradizioni e diamo importanza a quello che deve avere importanza. Ragazzi, è in Europa, è in Europa, è in Europa, cioè, ma poi anche il fatto, magari, che ne so, che l'anno scorso la Roma mi andava in finale di Champions per il miracolo eliminando il Liverpool e mi faceva un Roma-Real Madrid, io prendevo, mi pare che era a Kiev la finale, mi pare che era a Kiev, io prendevo e andavo a Kiev, per dire, no, quanto ci mettevo, non ci mettevo tanto, un po' ci mettevo, ma spendevo il giusto, vabbè, lo accetto. Ma ci rendiamo conto da oggi a domani, a me dicono, la Roma è arrivata in fine di Champions, è grande, partiamo e andiamo a New York, tra una settimana c'è la finale, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ragazzi, ma se la sposti lì ci vanno, o quelli che hanno un sacco di soldi, perché, raga, e parliamoci, tu puoi essere mosso dal tifo che vuoi, ma magari 3.000 euro non ce li hai, perché poi alla fine già salgono i biglietti quando c'è una finale di Champions in quel posto, o una partita, ricordo che quest'anno avevo visto i biglietti per andare a vedere Barcellona-Roma e praticamente veniva il biglietto aereo 800 euro il giorno di Barcellona-Roma, 800 euro il giorno via di Barcellona-Roma, 800 euro il giorno dopo Barcellona-Roma di ritorno, però gli altri giorni veniva tipo 35 euro scontato. Quindi pensate voi, in America di sicuro i biglietti verranno 1.500-2.000 euro andata e 2.000 euro al ritorno quei giorni, e già 5.000 euro intanto se avete una testa perché viola dietro si muove sempre, e sbuffa pure, già 5.000 euro ti partono, devi prendere il biglietto, devi prendere l'alloggio, ragazzi così si va a rovinare nettamente quello che per dei tifosi è il senso di andare a vedere quella finale, riempi lo stadio di gente che gli importa relativamente poco della finale, sinceramente non sono d'accordo. Detto questo ragazzi fatemi sapere con un commento questo che cosa avete pensato, dei mi piace, se vi è piaciuto, dislike se vi è fatto cagare, iscrivetevi, mi raccomando al canale, se ancora non l'avete fatto fammi sapere con un commento qua sotto, buccia all'alline come sempre, ci vediamo in un prossimo video.